Weh, vi ho fregato questa volta e finalmente abbiamo raggiunto 10.000 iscritti al canale YouTube di Gameplay Cafè, complice anche alla copertura di The Last of Us parte 2. Pensate che un po' di tempo fa avevo fatto un video per i 5.000 iscritti nel quale facevo un mea culpa per non aver sfruttato a dovere la piattaforma YouTube quando stava esplodendo, non solo io, insieme a tutti i colleghi delle riviste online. Tanti canali nel 2012, 2013 e 2014 sono esplosi, sono di successo oggi e io al tempo avevo 10 anni di carriera su Multiplayer.it e 14 di scrittura. Poco male, è andata come è andata e in questo video vorrei raccontarvi invece il futuro di questo canale, quale potrebbe essere una strategia per farlo crescere, senza sconfessare però il progetto Gameplay Cafè a 360 gradi. Prima della sigla vi voglio far vedere anche come ho festeggiato per i 10.000 iscritti. I video più apprezzati su questo canale, al netto di quelli legati ai grandi videogiochi, sono i personali di dietro le quinte nei quali esprimo concetti e sensazioni legate ai videogiochi e a tutto quello che gira attorno ai videogiochi. Questo perché il canale è tendenzialmente personale, ogni tanto c'è qualche incursione di contenuti non prodotti da me, però ho deciso di farlo in questa maniera, mettendoci la faccia, mettendoci il cappello a un progetto ben più articolato, quello di Gameplay Cafè, che vedete un sito che sta crescendo, che in due anni oramai ha centinaia se non migliaia di contenuti, dei quali soltanto una piccolissima parte sono fatti da me in prima persona, proprio perché si sta crescendo, mi sto facendo affiancare da tanti lettori che sono diventati colleghi e ho creato una sorta di fucina di talenti, sono molto contento di questo risultato perché molte persone, più di 10, sono stati precettati anche per altri siti, Every Eye, Tom's Hardware e altri, per scrivere, perché proprio era il concetto iniziale di Gameplay Cafè. Raccontare la nostra passione per i videogiochi, senza bandiere, senza bait click, con atmosfera rilassata, senza urlare in video, senza avere aggiornamenti costanti, perché chiaramente questo non è più il mio lavoro. Quando ho lasciato Multiplayer.it, senza ripetere l'ennesima volta le stesse cose, chiaramente sono diventato sognatore da un lato, ma anche realista dall'altro, ho sempre pensato che non avrei potuto più vivere soltanto di videogiochi a 39 anni, a 40 anni, a 38 anni. E vivere da solo, con affitto, gatti, tutto quello che ne consegue. Quindi ho deciso da subito di impostare il progetto sul divertimento. Celebriamo la passione per i videogiochi, per fortuna abbiamo un pubblico, che possono essere mille, diecimila, centomila persone, e condividiamo assieme a loro questa cosa. E il successo è stato fantastico. Anzi, più che altro, più del successo, l'orgoglio, la soddisfazione di aver avuto un pubblico dedito, che segue le cose, che ha finanziato il crowdfunding con 13.000 euro, una cosa incredibile, è un sito così piccolo che riesce a pagare gli articoli dei propri collaboratori. Stessa cosa per il canale Twitch, che un po' alla volta è cresciuto, siamo diventati partner, con 100-150 abbonamenti in media, e adesso la programmazione vede me, un giorno a settimana, al netto degli eventi speciali, e tutti i vari colleghi che si sono un po' affacciati anche nel fare video. Magari in futuro questa cosa succederà anche per YouTube, però ci tengo chiaramente a dare un percorso perché già la crescita è molto difficile. Rendere i contenuti troppo frammentati potrebbe ulteriormente bloccare il tutto. Allora, sono contento, sono passati due anni, sia chiaro, da quando abbiamo raggiunto i 5.000 follower, però sono cresciuti costantemente, la videorecensione della Stovasa ha raggiunto la metà degli iscritti del canale in termini di visualizzazioni, quindi grande successo, tanti video vengono apprezzati, a rotazione abbiamo nuovi iscritti che si presentano, oppure altri YouTuber che comunque apprezzano contenuti differenti, e questa è la situazione. Tanti di voi mi avete scritto, con grande piacere ho apprezzato questa cosa, questo canale dovrebbe avere molti più iscritti perché non c'ha, vabbè, a parte le battute un milione e pasta di iscritti, ma io sono anche conscio che oggi il periodo storico di YouTube non permette grandi crescite in questa maniera, sia perché è saturo, sia perché le tendenze vanno verso altre direzioni, sia perché non c'è alle spalle qualcuno di grande visibilità che dà una spinta, sia perché i contenuti magari sono molto interessanti per una nicchia di persone, ma non sono contenuti mainstream in grado di fare centinaia di migliaia di accessi e avere migliaia e migliaia di iscritti ogni giorno, me ne rendo conto. Ma in realtà nemmeno io voglio una cosa del genere e ho tempo per fare una cosa del genere. Vi ho detto prima, Gameplay Café è un progetto ad aggiornamento lento, anche se è in crescita, io faccio tante cose nella vita, viaggio, viaggiavo, viaggerò tantissimo e mi piace non fare soltanto contenuti video, stare costantemente in casa a fare contenuti video. Non mi piace dedicare troppo tempo al montaggio, mi piace scrivere, supervisionare progetti, andare in giro, conoscere persone, c'è tutta la parte dedicata al food, al canale di pizza, mi piace andare in giro per pizzeria, scrivere recensioni, fare approfondimenti, parlare con le persone, il periodo estivo diventa sacro ancora di più per muoversi, andare in Giappone spesso e volentieri. Sono tutte cose che purtroppo, o per fortuna nel mio caso, cozzano pesantemente con l'avere un canale YouTube aggiornato quasi ogni giorno, con un montaggio, con più contenuti video, con tagli e altro. Ma in realtà poi, se c'è un pregio che mi contraddistingue al letto dell'esperienza, che non è manco un mio pregio, è l'esperienza, si è creata, la possono vedere tutti dopo 20 anni, è il fatto che riesco a parlare in video senza tagli, con poche pause, oppure con pochi sbagli o altro. Quindi questo è un pregio che porto avanti in una nicchia, però è stata apprezzata tantissimo, ad esempio, le recensioni della Stovasa parte 2, nella quale parlo praticamente 40 minuti senza mai fermarmi con qualche pausa più che altro scenica. Quindi, se questo può essere un pregio, allora lo porto avanti, anziché provare a replicare ai miei 40 anni quasi il fatto di dover fare tagli, essere super brillante, fare tutte cose che magari, chiaramente, accalappiano, prendono più persone, più giovani. però tendenzialmente è anche bello che 5.000 visualizzazioni, 1.000 visualizzazioni, tanti commenti, tante persone che guardano il video per largo tempo, se uno va a vedere le statistiche, sono molto elevate di retenzione del video, di persone che guardano gran parte del video. Di questo sono contento. E più di fare un paio di video a settimana, talvolta 3, talvolta 1, non riesco proprio perché poi mi va di curare tutto il progetto che impiega fe, tante cose le faccio dietro alle quinte, progettazione, il futuro, scalette, progetti e altro, questa cosa mi piace. Quindi, dando per assunto questo, sicuramente il canale potrebbe crescere ulteriormente. È chiaro che, se vedete questo video qui, è il video dei 5.000 follower, già notate una qualità visiva enorme, una differenza di qualità visiva enorme. Ci sono i led dietro, sono meglio illuminato, sembro anche meno vecchio, perché mi taglio meglio i capelli e mi faccio il ciuffo colorato ogni 3-4 settimane. Anche l'audio probabilmente è migliorato. Quindi è chiaro che piccoli miglioramenti ci sono, ci sono le collaborazioni, avete visto, se avete seguito, se mi seguite sui altri canali, io vi invito, ragazzi, a non fermarvi a YouTube, perché sono presente e siamo presenti come Gameplay Café su Instagram, con tre account, su Twitter, su Twitch, il canale sta andando molto bene, c'è il sito con tanti approfondimenti, al netto degli articoli classici, ci sono miliardi di rubri, tantissime rubriche di approfondimento, di punti di vista personali sul mondo dei videogiochi. Quindi se avete la pazienza, la voglia e non siete soltanto ascoltatori, telespettatori di video, fatelo un giro, perché è molto di più di questo canale YouTube che è Gameplay Café. Anzi, questo canale è il mio apice, è dove mi metto a sfogare, dove mi sfogo su argomenti videoludici e su argomenti di cibo, ma in realtà c'è tanto altro, perfino dei podcast audio. Quindi, dicevo, la qualità è migliorata, ci sono le collaborazioni, l'evento PlayStation 5 l'abbiamo fatto insieme a GameTime, quindi c'è volontà di crescita, c'è volontà di rendere il canale maturo, però anche una certa visione, un certo realismo del fatto che non voglio, non posso e non voglio appunto cambiare ulteriormente. Sono sicuro, però, l'ho detto anche già nei video dei 5.000, che sia ad esempio il video dei miei disagi, dei miei complessi, o l'unboxing veloce della Xbox di Cyberpunk 2077 o Final Fantasy VII Remake, o la mia video recensione nel fiume di The Last of Us parte 2, sono sicuro che se fossero veicolate su canali da 100.000, 200.000, 500.000 iscritti, sarebbero state ugualmente apprezzate, avrebbero fatto un numero di accessi commisurato. Questo perché non è che mi sto reinventando la ruota, non è che chissà chi sono rispetto agli altri, però sono superiore e il progetto Gameplay Café è superiore alla media. Quindi, malamente, siccome cito degli amici, sono convinto che la video recensione sul canale di PlayerInside, appunto, quell'analisi introspettiva dei disagi complessi sul canale di PlayerInside avrebbe fatto il botto, avrebbe fatto dei numeri clamorosi. Allora, devo essere sincero, un po' rosico che il canale ha soltanto 10.000 iscritti, sarebbe bello averne 100.000, ma non un miliardo, perché tanto comunque non si tratta di monetizzare particolarmente, però sarebbe bello avere un bacino di 100.000 persone giocarmela, vedere se con questi tipi di contenuti che faccio un paio di volte a settimana si riescono a mantenere questi 100.000 iscritti e si riescono a fare anziché 2.000 visualizzazioni o 5.000 o 1.000, 10.000, 20.000, 50.000. sono piuttosto sicuro di poterci riuscire, che sarebbe possibile, però le strategie sono quelle che sono, tanti mi avete scritto dicendo perché non vi sponsorizzate, perché non chiedete a qualche youtuber di essere sponsorizzato, non è mio costume onestamente andare dagli amici, da Michele, Sabaku, da Adobax, da Player Insider e dire ragazzi mi sponsorizzate a priori il canale, faccio fatica, ancorché probabilmente non è super efficace, ma anche se lo fosse faccio fatica a chiederlo. Chiaro, è bello fare anche collaborazioni, Let's Show dei Poveri per tre stagioni è stato molto apprezzato e invitando chiaramente persone con più visibilità rispetto alla mia sicuramente hanno portato visibilità al canale, però appunto ci deve essere anche uno scopo dietro e quindi Let's Show dei Poveri per adesso è un hold perché tutti fanno una cosa simile anche su Twitch e mi sono un po' annoiato di farla. Lo sto ripensando in maniera differente quindi prima dell'estate o dopo l'estate ritornerà assolutamente non vi preoccupate in formula forse anche più divertente e più interessante però faccio fatica a chiedere magari potrei chiedere a youtuber ai content creator e lo faccio come messaggio magari qualcuno sta guardando questo video di darmi dei consigli a netto del fatto che non ho assoluta intenzione di potenziare il montaggio potenziare la quantità di contenuti e la potenza visiva se non con piccole evoluzioni se ci possono essere dei consigli per far conoscere di più questi video alla platea alla platea di Youtube Italia se c'è qualche consiglio che mi può essere dato lo accetto con piacere perché sono di base sono una persona new su questo canale per quanto negli ultimi due anni sicuramente ho guardato molti molti più video ho assorbito tutte le strategie sicuramente non ho l'esperienza di questo canale come ce l'ho dei videogiochi in generale o dell'editoria videoludica quindi assolutamente qualche consiglio è ben accetto quando possibile i giochi daranno una mano perché se uscisse sempre dell'asto vaso parte 2 abbiamo fatto 100 iscritti in questi 2-3 giorni probabilmente il canale crescerebbe molto di più se potessi parlare sempre di titoli dalla portata di l'asto vaso parte 2 questa cosa non è possibile sicuramente la next gen sarà un altro momento topico nel quale e grazie al quale disquisire di videogiochi però ci devono essere i contenuti che sempre vanno costantemente giocare gioco fin troppo ma non mi va di portarlo perché la devo godere pro player lasciamo perdere podcast personali come quello dei disagi complessi o del dietro le quinte ci stanno una volta ogni tanto perché poi non è che gli argomenti sono infiniti e non vogliono nemmeno far diventare questo canale una sorta di psicologia inversa deve essere uno dei contenuti che riguardano la mia persona che riguardano gameplay caffè che riguardano i videogiochi e io sono sincero come ho fatto mia colpa al tempo per youtube per non aver abbracciato la piattaforma youtube esprimo le mie sensazioni sicuramente una piccola frustrazione nel non poter avere un bacino superiore mettermi in gioco potrei farlo magari con una rubrica su un canale youtube altrui oppure potrei farlo su una rivista di videogiochi online per avere maggiore visibilità ma anche lì se non c'è un percorso se non c'è un progetto mi pare un po' fino a me stessa fino a se stessa preferirei innanzitutto che venissero visualizzati di più i contenuti di questo canale ripeto non è un canale che può fare milioni di accessi perché gli mancano tante fondamenta gli manca anche il personaggio io sono un personaggio tranquillo e pacato e anche forse fuori tempo massimo però sono sicuro che con una bacina di utenza per 10 non dico per 100 ci sarebbe ugualmente successo e ugualmente verrebbe apprezzato come abbiamo apprezzato oggi ci sarebbe bacino se come per magia avesse questo canale 100.000 iscritti anziché 10.000 sono sicuro che non ne perderemo nemmeno uno anzi sarebbe un'ulteriore spinta per aumentare ulteriormente ripeto senza essere falsamente modesti senza essere arroganti ma sicuri di se stessi perché cacchio un po' vedo i feedback delle persone vedo che quando riesco a parlare di un progetto maggiore o riesco ad andare su una rivista o parlo di un dell'astrovas che ha molta più attenzione da parte di tutti quanti i feedback sono per 10 se non un per cento rispetto a quando parlo di un titolo di un titolo di un titolo di Neo2 della video recensione di Neo2 quindi so che c'è ci sarebbe possibilità di crescita non ho strumenti non c'ho il tempo non c'ho la voglia di fare una crescita repentina ma c'ho una voglia estrema assolutamente di condividere il mio pensiero di videogioco e di videogiochi assieme a voi di essere presente a cadenza regolare su questo canale di fare tant'altro nella mia vita perché la mia vita è quello che conta di più rispetto a tutto la mia felicità la mia soddisfazione e conta tantissimo il progetto Gameplay Caffè che non è solo questo canale come ho detto prima è un sito sono i social sono le dirette Twitch questa è soltanto una parte di una torta molto più grande per quanto piccola e a me piacerebbe che tanti ragazzi lettori giovani o non che sono cresciuti con me che adesso scrivono con me possono magari intraprendere una carriera videoludica nei videogiochi nella scrittura o addirittura dall'altro lato della barricata come sviluppatore come PM PR è una soddisfazione un po' da boomer quella di mettere da parte soltanto l'ecocentrismo personale che è ancora presentissimo sia chiaro ma affiancarlo con la soddisfazione di vedere il successo altrui il successo di una squadra ragazzi il Comic Con dell'anno scorso è stato un momento fantastico e quest'anno stavamo pianificando anche in vista della generazione nuova di console PlayStation 5 Xbox Series X di andare alle 3 di Los Angeles e al Tokyo Game Show di farlo in squadra insieme divertirci andare oltre il personaggio andare oltre internet e vivere dei momenti fantastici assieme e questo credo che distanzia e mi differenzia da tanti altri che cercano ingiustamente che hanno successo di fare una carriera singola su una piattaforma singola forse anche perché ripeto siamo fuori tempo massimo ma in realtà la mia indole non mi porta a far questo anche vedete il progetto sulla pizza l'ennesima passione che ho voluto trasformare il lavoro a netto di questo periodo del covid e quindi portarla avanti perché poi alla fine quello che conta nella vita di ciascuno di noi è la felicità la soddisfazione personale si può essere strafelici con numeri incredibili con numeri minuscoli in solitaria in squadra dietro le quinte davanti la telecamera dietro una penna anche facendo lavori estremamente umili ma tornando a casa soddisfatti e godendosi il proprio tempo libero quei pochi o tanti soldi che si hanno e le persone che girano attorno secondo me questa cosa è inestimabile e cambia da persona a persona quello che voglio io non lo devo imporre a quello che vuole la persona all'altro lato della barricata o voi attraverso la telecamera o altri miei colleghi o altri content creator quello che voglio io è differente non devo imporlo e non voglio che gli altri impongano questo a me secondo me è fondamentale per andare a dormire tranquilli la sera spesso e volentieri io faccio questo paragone se riuscite a addormentarvi in tempi brevi siete abbastanza divassati se ci mettete mezz'ora un'ora due ore alletto di soffrire di qualche patologia c'è qualcosa che vi rode dentro che non vi fa stare bene che dovete portare a termine che dovete risolvere poi chiaro se avete giocato 16 ore a quello duty siete schizzati completamente datevi una botta in testa e vi addormentate è chiaro che non riuscite a addormentarvi subito se giocate a un videogioco molto frenetico pochissimo prima di andare a dormire ci mancherebbe faccio un esempio abbastanza generico questo è quanto ragazzi e vive e vive e vive 10.000 iscritti sono contento si continua anche se dovessero rimanere 10.000 per tutta la vita continuerò a fare contenuti sul canale gameplay continuerà a pubblicare contenuti a fare dirette senza ammazzarsi appunto perché dobbiamo pensare anche a campare che è importantissimo capate in bocca e al prossimo video torniamo a parlare videogiochi ciao ragazzi ciao 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 ciao